Un grande valore, ne avevamo bisogno perché siamo venuti da qualche sconfitta di troppo e perciò per l'autostima era importante tornare a vincere il prima possibile. Ci siamo tornati oggi contro una delle squadre più forti di questa stagione in B e perciò sono molto contento. Perché pensavo che in area di rigore, correndo con la sua corsa, poteva mettere in difficoltà i difensori centrali loro che erano un po' stanchi e per comunque tenere la pressione alta sullo spezia, per non dargli palleggio mai e perciò un giocatore dinamico come Paganini ci avrebbe aiutato molto a farli cacciare lungo. Sì, sono contentissimo per loro perché quando si perde siamo giù i tifosi, sono giù io e i giocatori soprattutto perché sono quelli che poi alla fine mettono la faccia quando si perde e quando si vince. Quando si perde perciò si sono meritati questa serata perché la volevano tantissimo e siamo stati in difficoltà nelle partite prima. Speriamo adesso di dare continuità al risultato, a questo atteggiamento. Noi siamo una squadra che ha bisogno di questo, di autostima, di vivere il momento e poi cavalcare l'onda. Quando l'onda va bene bisogna continuare. Ma vediamo, vediamo. Noi oggi ci godiamo una serata così perché tanto che non ne vivevamo una. E poi vediamo, ho detto, i ragazzi sono stati bravi anche quando abbiamo perso. Sicuramente abbiamo fatto un po' fatica dopo la quarantena. Una squadra, ho detto prima della partita, un po' esperta rispetto a qualcun'altra e perciò fa un pochino più fatica di mettersi in moto. È una situazione anomala perché nessuno sa come ha la ricetta giusta perché non è mai accaduto. E perciò sicuramente i giocatori hanno dato tutto, tutte le partite. Poi magari ancora non erano brillanti, gli altri andavano un pochino più forti, sono stati più bravi in alcune situazioni, però i giocatori sono sempre sul pezzo. gente responsabile e quando si perde sono tristi, molto tristi. Oggi c'è stato Marcus, a volte possiamo giocare con tre punti, ritornare al classico 5-3, invertire il triangolo dei centrocampisti come altre volte. Vediamo, vediamo le caratteristiche dell'avversario, proviamo a fare le scelte giuste e proviamo contro l'avversario di turno. No, ma che è buono, in aria si tira, si fa, poi l'arbitro ha il termometro, con qualsiasi rigore o no, ma io forse non l'avrei dato. È vero che ha spinto un po', però in aria c'è stata una palla alta su salvi sulla linea che è stata scalamentata fuori dal campo, allora non si è fischiato fallo, perciò di trovare il rigore, che è ancora più, cioè dai un rigore, non lo so. Poi io accetto l'interpretazione dell'arbitro, l'arbitro fa, anche lui ci mette il massimo, però su questa situazione, poi per me c'era anche un'espulsione del terzino, dei Vignali al primo tempo e poi dopo va bene, quello che decide l'arbitro va bene a tutti, però sottolineiamo perché ogni tanto tutti si lamentano, noi lo sottolineiamo, non ci lamentiamo. Grande gol Paganini, Paganini è entrato bene, ha dato quella gamba, quella pressione che volevamo, in più sapevamo che dentro l'arbitro paga forte le testa e ci ha fatto qualche gol quest'anno.